In un'isola dell'arcipelago malese a caccia del dragone, è questo l'immaginoso nome che gli indigeni danno al Caranus Komodoensis, specie di lucertolone gigante che appartiene all'ordine dei Sauri ed ha infatti col coccodrillo più di un'affinità, tanto che la varietà egizia era considerata da Erodoto come un vero e proprio coccodrillo terrestre. I malesi danno la caccia al vorace rettile, divoratore di insetti, pesci e piccoli quadrupedi, apprestandoli trappole sui terreni dove ne è stato rilevato il passaggio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!